Sono le serate che sogniamo tutti. Sono le serate dove ci piace sognare, emozionarci, tutti insieme, noi siamo l'ora! Numero 1, Rui! Adesso! Numero 23, Gianluca! Mancini! Numero 4, Brian! Cristante! Numero 3, Luce! Luce! Numero 19, Zecchi! Zecchi! Numero 52, Egoldo! Uovi! Numero 8, Memoria! Adici! Numero 37, Leonardo! Di la scuola! Numero 13, Egoldi! Numero 9! Temi! Brava! Il capitano! Numero 7, Luce! A disposizione, numero 63, Egoldi! 99, Zecchi! Andando da casa! A 6, Zecchi! 20, Camara! 21, Di Bala! 25, Guadalmo! 59, Pizzori! 59, Zalewski! 68, Tahirowicz! 73, Faticati! 92, Pizzori! 64, Pizzori! CC 2020, Egoldi! Grazie a tutti.